Sicuramente noi abbiamo pensato fossero delle donne, che era il secondo stipendio, che era il secondo stipendio, che il vero stipendio lo portava l'operaio, l'ingegnere, il dottore e poi il secondo stipendio lo portava la donna in famiglia. Io credo che la mancanza di partecipazione alla politica sia frutto di una cultura che va indietro nel tempo in cui sostanzialmente abbiamo relegato le donne alla dimensione subalterna, in cui sì, se facevano anche l'etica bene, sì, se lavoravano anche bene, sì, se studiavano anche bene, ma prima di tutto l'uomo. Prima di tutto studia l'uomo, prima di tutto lavora l'uomo, lo stipendio lo porta in casa l'uomo e poi anche la donna. È una cultura che abbiamo costruito nel corso degli anni e che è chiaro che dobbiamo provare a... A livello monetario capisco, ma a livello di...